Non so perché me lo ricordo così. Perché il ricordo mente rende belle delle cose che non lo erano. Perché la vita altrimenti sarebbe insostenibile. Ci dobbiamo lasciare. Ma sei stupido? Non sarà mai più così bello, lo sai? Non so. Quante cose però che abbiamo già vissuto servirebbe un'altra vita per ricordarsene tutte. Guarda, qua c'era sempre uno con i burrettini. Qui in mezzo? No, forse non era qui. E come non è il ricordo che avvelisce le cose? Secondo me erano belle già prima e magari uno se ne rende conto a distanza di tempo perché durante non stava attento. quella non è la mia un'imudo giù barrelcata tra ragazzini. Ma che è stata lui to decides speech-carriuttor del mondo. Guarda.